Due volumi episodici con una linearità di fondo L'opera è matura, parla di pubertà e di società giapponese abbandonando tutti i cliché Il timbro è estremamente crudo e realistico e ci mostra il cuore dei nostri giovani protagonisti che vivono queste vincende travagliate La sequenzialità è ben pensata Le scene atmosferiche hanno anche di estremo impatto Di sicuro un'opera che si fa sentire molto emotivamente e che vi farà provare emozioni particolari